Musica Sabato 8 novembre, San Goffredo Vescovo. E' il 312esimo giorno dall'inizio dell'anno, ne mancano 53 al termine. Il sole sorge alle 6 e 59 e tramonta alle 16 e 49. La luna leva alle 18 e 17 e tramonta alle 8 e 19. Parte da Venezia la quarta crociata. Alla testa dei 480 vascelli vi è la galea del doge ottantenne Enrico Dandolo. La festa di San Martín a Maserada sul Piave continua fino a domani, domenica 9 novembre. Da non perdere il mercato dei prodotti agricoli, il primo incontro del baratto, il mercatino obbisti, i gonfiabili e gli spettacoli degli artisti di strada. Vi aspettiamo a Maserada sul Piave. Le previsioni per domani. In prevalenza a nuvoloso con addensamenti anche estesi al mattino e qualche schiarita, specie in alta quota, nella seconda parte della giornata. Precipitazioni generalmente assenti sulla pianura, salvo una probabilità bassa di deboli piogge sulla pedemontana e sulle zone orientali al mattino. Su zone montane, probabilità medio-bassa al mattino, bassa dal pomeriggio di deboli precipitazioni, temperature senza notevoli variazioni.